Ultimo pallone del match, ce l'avrà il Modena, Gerli, sale anche Ponsi, rimangono solo per Greffi e Piacentini in difesa. Ponsi, Azzi, anticipato, pallone che termina fuori, dieci secondi alla fine. Gerli raccoglie, chiama palla a Ukada, Gerli, Azzi, passa al limite, Azzi, finì in fondo, aree di rigore, Musti col destro e il Modena passa al 94esimo, esplode il Braia, Shadiukada, 1-0, incredibile, incredibile Modena, passa all'ultimo respiro il Modena, pazzesco, pazzesco e ancora pazzesco. All'ultima azione, all'ultimo pallone, i gialli passano in una maniera incredibile. Sotto la Montagnani, tutto il Modena, tutta la panchina e tutto il Pescara ad avvolgere.